1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Q come quaglia, quaglia quando si dice quagliare è una cosa che rende l'idea perché è buona, è compatta, è picciotta, cicciotta, pacuta come diciamo noi a Roma beh io le voglio fare alla Giorgione perché le faccio sempre come le pare a me a ognuna di loro gli facciamo un servizietto intanto come sapete io dormo sempre fra due guanciali quindi mi prenderò un paio di fette di guanciale molto bene, ci facciamo 7 pezzetti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 non è che questo lo sprechiamo, non vi preoccupate poi un pochino di sale un pezzetto una bacca di ginepro un'olivetta e poi ci mettiamo queste le facciamo piccoline 3, 4, 6 e 7 eccoci e un po' di acciughina va bene? così, bello spremuto così adesso le mettiamo tutte vicino in fila come i soldatini perché dobbiamo compattarle, adesso vi faccio vedere come però ci mettiamo un pochino di sale sopra intanto che loro stanno lì poi ci mettiamo un pochino di pepe molto molto bene padellino guanciale guaglia la compattiamo, cerchiamo di non far uscire niente e poi rientra dentro brava gli chiudiamo un po' le zampette così poi ci mettiamo questa bella foglia di guanciale intorno e la adagiamo suadentemente sulla padella compattiamo tutto ecco così mettiamole una di qua e una di là creiamo un ordine sparso tutto dentro chiuso bella compattata eh la bambina tu anche cuose testa ecco molto bene e questa la mettiamo qui molto carinamente ecco qui devo tirarla un po' di più adesso prendiamo questi pomodorini lo spacchiamo e li mettiamo così e molto bene l'ultimo poi prendiamo il chinocchietto lo sbratazziamo non lo mettiamo sul fondo perché si brucerebbe ma in mezzo tra una quaglia e l'altra e poi vado olio come se piovesse cercando di prendere bene l'acquaglietta ma dopo che ci scenda sopra addosso poi dopo quello che cade giù va bene perché tanto deve soffriggere quindi ecco le vado a mettere sul fuoco e gli diamo una prima rosolata adesso in pratica che cosa succede che rosolano io non le tocco per niente perché rimangono bene così come hanno ben rosolate ci butto dentro un goccetto di vino bianco anzi più di un goccetto e poi le chiudo e che diciamo che fra una ventina di minuti e mezz'ora sono cotte quindi secondo me senza che prendiamo altro tempo se andiamo a fare una partitina e se mangiamo e la quaglia? la quaglia è cotta e quindi andiamo a mangiare guardate un po' che spettacolo ste quagliette belle rosolate ali e adesso ci prendiamo cucchiaio e forchetta ne prendiamo una così a caso che ne so questa vieni amore della mamma vieni qui eccola qui guardate che spettacolo col suo guancialetto bella rosolicchiata ci mettiamo il pomodorino ci mettiamo l'olivetta un po' di fondo ecco questa scotta perché sarebbe da via con le mani infatti ci puoi dare una succiatina ma noi molto suezantemente lo apriamo in questa maniera qua ale perfetta quindi ce ne mangiamo un pezzettino ecco qua che facciamo? non ci mettiamo il guancialino? c'è un rossetto coscetto di guaglia permettetemi la raggiata quanto è buono quanto è buono bene cosa vogliamo dire della guaglia oltre che buona? abbiamo guagliato e quindi ce la siamo mangiata viva le guaglie viva la cu di guaglia buon appetito grazie a tutti